Non ci sono i media, non c'è la radio, non c'è la televisione, non ci sono i giornalisti. E' lui la radio, e' lui la televisione, e' lui il giornalista, e' lui il blogger, e' lui lo spindottolo, in alcuni casi e' lui che interpreta il cittadino, l'elettore medio che pone le domande al post politico, ottiene risposte da questo. Il libro in questione è Catemoto De Luca, la comunicazione politica 3.0 del sindaco social di Messina, casta, editore, giovane casa editrice, e' il libro e' scritto da Emilio Pintaldi, giornalista messinese brillante, la prefazione di Francesco Pira, docente universitario. La questione centrale e' quella appunto della comunicazione nel mondo dei social, delle fake news, di Facebook, di Twitter, quando c'e' quest'illusione spesso di un rapporto diretto tra chi governa e il mondo dei cittadini, più che altro il mondo dei follower. Tutto questo naturalmente travolge il mondo tradizionale dei media e del giornalismo, e tutto questo e' raccontato dalla penna brillante di Pintaldi, in un libro agile, snello, ma anche molto interessante per i temi che affronta, e per tutto questo io lo consiglio.